Ma è una grande perdita, è un ciclo della storia che si chiude, ma è bene ricordare che questo grande calciatore, Pelé, ha fatto sognare tanti giorni, ha fatto sognare me che ero piccolo quando me lo ricordavo nella famosa partita Italia-Brasile. E' anche la storia di un calcio che viveva nell'umiltà e non in questo grande calcio che oggi noi abbiamo fatto di grandi ricchezze, un Pelé che anche fino alla fine ha fatto della modestia una sua caratteristica fondamentale.